E per questo riconoscere i propri peccati, riconoscere la nostra miseria, riconoscere quello che noi siamo e quello che noi siamo capaci di fare o abbiamo fatto. E' proprio la porta che si apre alla carezza di Gesù, al perdono di Gesù, alla parola di Gesù. Vai in pace, tua fede ti salva, perché sei stato coraggioso, sei stata coraggiosa di aprire il tuo cuore a colui che soltanto può salvarti. Grazie a tutti.